Ciao ragazzi e ben tornati sul mio canale Non ho ancora trovato il modo di vedere bene la faccia con l'applicazione Quindi l'ho rimossa L'ho già rimossa Poi rivedrò se rimetterla Attanto possiamo stare senza rivedere lo schermo Dai, occupiamo pure un po' troppo Allora, la schermata iniziale l'avrete riconosciuta Che è Angry Shark Evolution Mod Da Tutu App Perché il sistema è Tutu App L'app che vi ho fatto vedere in un precedente video Cioè l'ho precedente Ma precedente di tanto Per scaricare Mod Andatevi a rivedere il video Basta scrivere Tutu App su Google E dovrebbe essere un corretto bianco con lo sfondo nero Va bene, comunque l'abbiamo L'ho diciamo moddato se si può dire L'ho crackato Perché volevo crackare Angry Dragon Quel gioco di draghi Però Mod non me lo faceva scaricare Cioè me lo scaricavo Poi l'aprivo e non mi ci faceva giocare però E allora ho detto Non lo volevo perché Stavo al quinto squalo ragazzi Volevo farvelo vedere però Per comprare il quinto squalo Servivano 250.000 Io ho detto Ah volevo mi compro con lo squalo E mi metto a risparmiare soldi Ho detto Cioè 188.000 mi pare Volete Pensavo così Ho risparmiato Compro subito tutto Però bene Quello ne costava un botto più Quello che avevo caragnato E allora Non ce ne avevo più ragazzi Me lo sono dovuto toglier Che volevo più giocare E basta Cioè Mi sono andato pazzo a fare Solo quei soldi Figuriamoci 250.000 Figuriamoci squale Che venivano dopo Vabbè E ultimo lo sono scaricato Mordo Per farvi vedere L'aggiornamento Che hanno fatto su Angry Shark Iniziamo Io sto a giocare con lo squalo Magari Ragazzi abbassare internet Se no Non ci mangiamo pazzi Ehm Va bene Quindi Vabbè Adesso è visibile Torna Normale Devi tornare normale Che Non ci torna normale Perché mi sono Eccolo qui E il secondo squalo Mi sono preso Lancia missili Ehm Una cosa Che ti può diventare visibile Ehm Lo skateboard L'immunità alle bombe Alle Meduse Quindi diciamo Ci vuole punture Guardate Che cosa figa Hanno fatto Allora Io ho anche il baby lava Guardate Avete notato Che il tempo è cambiato C'è tipo il tramonto Adesso Per esempio Io vado sott'acqua Non facciamo caso a quello Ecco C'è la mania ad ora Perché ce l'ho craccato Quindi vado subito Guardate Ora è notte Per esempio Qui siamo A livello del primo squalo E guardate il portale È giallo Di norma Il portale Qui era blu Infatti c'è anche blu Però quello blu A domani si vedrà Perché Dobbiamo aspettare Il giocatore All'aggiunto Vediamo Un C'è presente Il Titanic Non so se voi Lo conoscete Ma di sicuro Molti di voi Lo conosceranno Il Titanic Comunque E ci sta il biglietto Del Titanic Le sono dieci Se li comprate Cioè Rimbasta uno Io a comprare Tutti i quali Si farà diventare Il portale Giallo Se noi adesso Entriamo Io ci entro solo una volta Perché col primo squalo Ci sono stavolte Dieci volte Guardate Se adesso vado Verso di qua Adesso provo a volare Per quanto il jackpac Questa qui è la nave Del Titanic Andata distrutta Cioè ma che cosa figa Cioè È la giornata di un botto E poi il tempo cambia È una cosa fantastica Poi vedi Hanno aggiunto anche Altre cose Che io adesso Invece di saglia di livello Ce ne andiamo da qua Mi dispiace Il saglia di livello Perché ci sarei stato Ma voglio farvi vedere Tante cose Ah è il trucchetto Per 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 la data e ora Per la data e ora Che vi ho fatto vedere Che serviva Cos'è Il tuo squad Bleblebleble Ma che me ne frega Cioè si Me ne frega un casino Però no grazie Ciao Vabbè Comunque Dicevo Che quindi Mi ho fatto vedere Il precedente video Quello di Angry Dragon Nelle nuova Potete farlo anche qui Con i forzieri Per chi non ce l'ha molto Date ora Saltate di un giorno Di quanto mi serve Andate al forziere E vi prendete i soldi E ok Allora dicevo Se noi adesso Sporriamo Ecco l'aggiornamento Che hanno fatto Si inghiaccia ragazzi Guardate Il meccanotonte Non ha più il lucchetto Ma è a forma Non so cosa succederà Quando si bloccano Più che tanto Snappy Di scuola Di scuola Nero Cosa La balera Che non mi ricordo Come si chiama Ma è la balera In inglese Quella non mi viene in mente E qui c'è il nuovo scuolo Che non so come Si è minimamente fatto Ragazzi Poi comunque Che abbiamo Scuoli speciali Ecco quello nuovo Uscito Non è questo ragazzi Non ci fate a casa Non so chi è questo Allora Prego a mente I scuoli sono Quindi Elettrico Ghiaccio Robot Poi abbiamo Quello di lava Quello Questo qui dovrebbe sparare Una puntina E catturare i pesci Lo scuolo Teschio Diciamo Morto Dasma Calamaro Che assorbe il potere Degli altri E questo qui È quello nuovo Che dovrebbe essere Da quello che ho letto Vediamo un po' Siamo ora E la banda Vabbè Fantastico Squalo Mannaro Ragazzi Mannaro Che Ulula Di notte Di notte Ci sono molti ululati Quindi avrebbe il potere E vabbè Si come tutti gli altri squali Speciali Non cresce Cioè si cresce veloce Questo però La crescita Non gli si salva Quindi rimarrà piccolo Quando moriremo Vabbè Questo qui È lo squalo Utilizzato Ora Io Farei Ah Io però Non lo posso fare Accidenti È vero È vero Ora Ci penso Volevo farvi anche vedere Il trucchetto Sì Ce l'ha dato Ora di nuovo Però è vero Io per l'app Non lo posso fare Comunque Funziona anche Con i forzieri Poi qui ho potenziato tutto C'è anche un'altra mappa Ah Per chi Non l'avesse aggiornato Cioè aggiornato Mod Angry Shark Aspettate Voglio farvi vedere Una cosa Sì la ritrovo 3 gadget 3 gadget 3 gadget 3.000 volte I baby Eccolo qui Questo Io lo compro un altro Quello avevo spiegato prima Diet Titanic Che ci termina di entrare In quel forzieri Io lo comprei 10 Mi stai So furbo Mi riprendo pure Questi qua Che sto passando In mezzo alle meduse Questo cos'è Cosa dovrebbe essere Ah Eh ma no No grazie Quell'elettrico L'ho già usato Io quello là Bravo Vabbè Su Faccio Faccio Volevo Quello là Vico ragazzi Quello che Tenevo prima Questo Sì Ecco Vabbè Quale era il biglietto Diciamo Per chi non l'avesse Craccato Da tuto Up Comunque Cioè Verso di qua Vi ci danno Facebook E Costaggio Che non so cosa sia Non l'ho mai usato Comunque Facebook E questo altro simbolo Se voi cliccate Facebook Questa cosa Non c'era solo una volta Se cliccate Facebook E poi Vi ci manda E uscite Vi darà 5 diamanti In più Poi Andate anche su quest'altro Davanti Facebook Lo cliccate Togliete E vi darà altri 5 diamanti Non so perché Ma funziona Io ho anche comprato Mappe in GPS Dovrebbero essere Questi due qui Penso Non lo so Perché c'era Scritto Una mappa speciale Quindi forse Hanno aggiunto Una mappa Ragazzi Non so come Io ancora Non ho visto Mappe Niente Sono giocato Il primo squalo Con tutti i gadget C'era C'era Questa Aspetta Aspetta Allora Io ho compito Siva mappa speciale Tutto Dove Ah Ecco Ecco Giusto Che scemo La mappa Doveva essere Questa Sì Vabbè Questa è la mappa Non penso Che abbia L'accento Posto Segreti Io per esempio Ho ucciso Sì ragazzi Sapete Che mi è venuto In mente Adesso Se ci riesco Se ho Vabbè Ragazzi Ci provo Dai Devo cercare Di uccidere Il ragno Il ragno Ragazzi La nottina Grande Mi ha Contagiato No Perché Vabbè Comunque Andare A uccidere Il Cranchio Non il ragno Ah Il cosa Sbattò Sballotto Lei l'altro Il Il Cranchio Ma molto Tosto A ritrovare Io ho pure Il gps Però Beh Ragazzi Penso Un po' Di tempo Allora Vediamo Un po' Doveva essere Da queste parti Sì Però Ecco Il tramonto Guardate Ecco qua Questo Doveva essere Il tramonto Conchiglia E vai Conchiglia Aiuta A salire Anche Di livello Scendiamo Sotto Forza Veloce Non abbiamo Tanto tempo Già Dovevo trovare Sto posto Cranchio Sperando che sia Qui ragazzi Perché C'è il gps Ma non lo voglio Riusare Cioè Mi vorrei Per spiegare Se il video Viene lungo E noioso E se viene Anche lungo Oltre a essere Noioso Ecco Siamo arrivati Ho un'ottima Memoria Ho ancora Un grande Perfamare Ragazzi Scusate Ok Allora Perché Io Sprindo Con il tasto Nestro Allora Eccolo Qui È verde È verde Vi spiego Perché È verde Perché Io Già l'ho Ucciso Una volta Quindi Essendo Già ucciso Cambia colore Se fate Sbrighi Il legno Tutta Stamattina Forza Ecco Il Cavolicchio Oh no Ragazzi Col Cavolicchio Che c'è Chi Forza Ma Sto Spare No Ragazzi Lasciamo Stare Questo Magari Nel prossimo Video Perché Non ci si Cosa Perché La scuola È verde Ciao Ciao Signore Io me ne vado Mi dispiace Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo Video Nel prossimo Video Nel prossimo Video Scusate Ragazzi Quindi Il video Sarà Subito Dopo Quello Che Mi uscirà Se riuscirò A postarli Anche Quest'altro E Per oggi Ciao Ciao